Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video che mi piace se vi parla e oggi siamo qui in un altro episodio della nostra città Allora ragazzi guardate la nostra città che sta diventando piano piano più costruzioni, più casetarie Allora oggi che cosa andremo a fare? Oggi andremo a fare una bella fontana Avrei detto che l'avrei fatta da un'altra parte però no, no, la voglio fare qui vicino Magari ne faremo altre in altri posti come dico sempre Allora per questa costruzione serviranno soltanto dei stone brick e magari dei stone brick stair E' un secchio d'acqua ovviamente Innanzitutto dobbiamo fare una linea 5x5 e più 2 di qua Poi ricontinuare 5x5 Dammi qua, 1, 2, 3, 4, 5 Qua, qua, qua io metterei un po' di blocchi tanto per facilitarmi la vita Ok facciamo così Va bene E facciamo 1, 2 E qua altri 5 Va bene Chiudiamo qua Chiudiamo il tutto sempre con 5 Fatto ciò dobbiamo fare 1 e 2 Lo mettiamo qua, 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 qua e qua Aspettato ho sbagliato Qua e qua E qua e qua Dovono essere a distanza di 2 Dal primo da sinistra e il primo da destra Io ho fatto il contrario perché io sono trasgressivo Ok, ora potremmo prendere anche dei blocchi, degli stone brick normali Perché per semplificarci la vita Dove sono gli stone brick? Monster egg? No Stone brick Ok Faccio così Dobbiamo alzare di quanto vogliamo io preferisco Di 4 E dobbiamo fare una cosa così Una specie di Così, punto e basta Poi dobbiamo fare Eeeh No, giusto Era giusto Uno qua, uno qua, uno qua e uno qua E ora Dobbiamo alzare Qua Dobbiamo mettere questo qua No, ho sbagliato Sto sbagliando Dovrei mettere questo qua E questo qua Magari evitiamo di usare uno scadino Mettiamo questi alle punte E dobbiamo inserire questo qua Questo qua Questo qua Questo qua Questo qua Ok E questo qua Rimuoviamo questi di qua E alziamo ancora il nostro pillar E mettiamo l'acqua Come vedete si andrà a formerare Formerare A formare una bella fontana Qua potremmo sostituire i blocchi di sotto Con degli stone brick Quindi perché non fare Ok, così va meglio magari anche come estetica E qua Come al solito Dobbiamo inserire Le solite cose Cioè il solito passaggio Né in quello del leone Non ho fatto il passaggio solito Bensì li ho messi così Perché quello del leone È molto più alta come struttura Quindi Sa Cioè Non ho preferito Metterli così bassi Pure perché Se no Non si sarebbe Visto Comunque ragazzi Per questo episodio è tutto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ora io dovrò finire soltanto questo di qua E poi la struttura sarà completata A parte che devo mettere questo di qua E la struttura A parte È completata Tutta tutta Noi ci vediamo al prossimo episodio Bella domenica di 6